l'acqua scottava i loro corpi che si acclimatavano l'uno nell'altro dell'aria arroventata sul punto di incendiarsi quasi volesse risucchiare in un'unica terribile vampa le fiamme dei pozzi di petrolio che a sud si moltiplicavano verso uno sfuggente orizzonte di fate morgane di tutto il suo dispiegato volume trasparente torrido ribollente al di sopra delle acque della baia giungeva ai loro corpi un alito fresco e carezzevole insperato benché ormai da un anno ed un giorno lo attendessero esso li avvolse lungo un segmento di spirale risalendo al ventre di lei e piegando verso la schiena di lui per avvolgerlesi ancora sui seni ed incurvarci sopra la spalla dove egli lo raccolse infine sulle labbra e le parole pronunciate un anno ed un giorno prima adesso furono scritte sulle bocche di entrambi mentre ella torceva lievemente il collo affinché potessero aderire sotto la superficie azzurra i loro sessi si congiunsero senza pudore né protervia cosicché essi furono avviluppati nelle loro anime e risprendettero di luce propria al di sopra delle acque mentre il momento a lungo presagito si compiva nel regno del visibile dinanzi alla spiaggia di Iaietoro pochi chilometri a nord del delta del niger i pensieri di marco e sofì si componevano in univoca armonia di percezioni e formulavano all'unisono una medesima domanda chi sono io io sono colui che sarà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti